la troviamo così brochure con tutta la descrizione dei prodotti e di solito c'è uno spoiler questo è lo spoiler del prossimo mese poi troviamo questi patch occhi della staskin vip in oro 18 carati per rivitalizzare il contorno occhi poi troviamo questa maschera della glow per dormire meglio in seta di gelso così gli occhi sono belli in tessuto dove non crea rughe bellissima poi troviamo questo qui che è un fard della lotti london questo è il colore è molto bello ed è in polvere di una polvere molto leggera c'è scritto questo è il colore poi troviamo questo rasoio per la pelle quindi per togliere la pelluria dal viso ma si può fare anche le sopracciglia questo prodotto io già lo uso non ho mai trovato questo oliver brow water ma sono super curiosa la chantelle molto morbida lo proveremo poi troviamo questo highlighter in matita lo spot light ora vediamo com'è questa è la punta questo è il colore però devo dire che è un po' duro e non è molto... lo vedo un po' bruttino non mi piace almeno sulla resa sulla mano non mi piace ultimo prodotto di Elemis il pro collagene e questo è per pulire il viso dice che strucca appunto tutto il trucco e bisogna mettere un po' una goccia su una mano e micelarla con dell'acqua per creare la schiuma chiude i pori 30 ml e Elemis mi piace tantissimo proveremo tutto fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questa box e noi ci vediamo al prossimo video ciao